24 le persone a processo con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata all'evasione di IVA e utilizzo e dimissioni di fatture false. L'indagine della Guardia di Finanza di Rimini denominata Macchiavelli partì nel 2011. L'attività investigativa dell'Agenzia delle Dogan in collaborazione con le Fiamme Gialle ha permesso di scoprire che l'associazione avrebbe commercializzato prodotti di telefonia ed elettronica utilizzando società che simulavano vendite e acquisti di merce secondo il cosiddetto Carosello. Questo sistema prevede il transito dei beni da società italiane a società estere e successivamente il passaggio a più aziende italiane attraverso società cartiere che non versano l'IVA permettendo la vendita dei prodotti a prezzi vantaggiosi. 37 milioni di euro che sarebbero stati evasi in tutto al fisco. Giovedì mattina tutte le 24 persone indagate sono state rinviate a giudizio per aver preso parte di un giro d'affari dedito all'evasione fiscale transnazionale attraverso l'emissione di fatture false per operazioni inesistenti. A San Marino sono sette le aziende che risultano coinvolte.